Ripartiamo da qui, è l'iniziativa che stamani è stata presentata a San Leone durante un incontro con la stampa dai giovani di Confcommercio che lanciano il portale di domande e offerta di lavoro. Confcommercio guarda al futuro e quando finirà l'emergenza pandemica l'economia riprenderà a girare e la ricerca del personale qualificato e dei curriculum specifici sarà un'esigenza imprescindibile. Ma quali le strategie le più utili per rilanciare e rilanciarsi in un mondo del lavoro già in affanno prima di questa crisi epocale? Sentiamone le risposte. Confcommerciolavoro.it è uno strumento che noi di Confcommercio Agrigento abbiamo deciso di mettere a disposizione delle aziende associate a Confcommercio per la ricerca di figure professionali e specialistiche e quindi per la ricerca di personale all'interno delle proprie aziende. Sostanzialmente noi pensiamo che dare un tocco di innovazione e di digitalizzazione al processo della ricerca del lavoro sia un'arma in più nel XXI secolo e noi giovani abbiamo l'onere di dover sponsorizzare quanto più possibile la stessa innovazione. Come funziona Confcommerciolavoro.it? È un portale gratuito, aperto a tutti e a tutte, che dà la possibilità semplicemente di registrarsi e mettersi a disposizione per la ricerca di un lavoro, di un nuovo lavoro o magari di un impiego semplicemente migliore a quello che oggi si ha. Noi giovani di Confcommercio abbiamo l'onere morale di farci trovare pronti. Dopo ogni crisi storica esiste una ripartenza, una rinascita, un risorgimento. E noi abbiamo deciso di sponsorizzare questo portale per mettere in contatto chi cerca lavoro e le aziende che avranno bisogno delle figure professionali subito dopo la crisi pandemica. Da diversi mesi, anche prima del famoso lockdown di marzo, molte aziende associate come commercio da sempre ci hanno avuto come punto di riferimento per la ricerca di personale. Personale è sempre più qualificato. Anche subito dopo il post lockdown non si sono arrese e hanno continuato a chiederci di fare questa ricerca. Da sempre Confcommercio è stata vicina alle imprese in questa ricerca. Ma diciamo dallo scorso estate ad oggi, momento in cui abbiamo completato il progetto, il nostro direttivo senior ci ha sempre chiesto di digitalizzare Confcommercio, di andare sempre avanti verso l'innovazione. Ed ecco la nascita di questo portale. È un portale semplice dove le aziende associate a Confcommercio riceveranno tutti i curriculum delle persone che si registreranno. Naturalmente le figure che ricerchiamo non sono soltanto nel campo della ristorazione, ma in tutti i settori, perché Confcommercio non racchiude soltanto i pubblici esercizi, ma racchiude i servizi, racchiude il settore degli abbigliamenti, ambulanti, racchiude un po' tutte le attività. Un'importante iniziativa del gruppo giovani che l'amministrazione comunale naturalmente accoglie in maniera molto favorevole, soprattutto come rappresentante dell'amministrazione insieme alle attività, come rappresentante appunto delle attività produttive del Comune di Agrigento. Un'iniziativa svolta dai giovani di Confcommercio, a cui sono anche legato da stime e amicizie anche per i miei trascorsi passati. Un'importante iniziativa che mette in rete e mette soprattutto nelle condizioni chi cerca lavoro e chi offre lavoro, di dover con un'unica piattaforma avere la possibilità di incontrarsi e cercare di sviluppare economia, soprattutto lavoro per il territorio di Agrigento. Un'importante iniziativa che non è soltanto solo ed esclusivamente diciamo dal punto di vista di incontro e di offerta delle imprese con i cittadini, ma è anche un importante contributo sociale per tutto il territorio di Agrigento e quindi da oggi, da qui, da Agrigento, parte un'importante iniziativa che sono sicuro sarà anche ben apprezzata in altri territori.